Un'edizione all'insegna della comicità, quella che è andata in scena a Stalina per festeggiare il sesto anno di Mare Festival. La kermesse di cinema, cultura, musica e moda è ideata da Massimiliano Cavaleri e Patrizia Casale per ricordare la figura di Massimo Troisi, che ha visto alternarsi in questi anni nella suggestiva cornice dell'isola. Attori del calibro di Matt Dillon, Sergio Castellitto, Serena Utieri, Giorgio Pasotti, Nicolás Vaporidis e tanti altri. Protagonisti dell'edizione di quest'anno sono stati Ezio Greggio, presente per il secondo anno consecutivo a Stalina, e Alessandro Haber, che hanno letteralmente mandato in visibilio i tanti turisti e i solani che sono accorsi nella piazza di Malfa per assistere all'intervista doppia condotta dal direttore artistico e dalla giornalista Nadia Lamalfa. Veri mattatori del talk show hanno ripercorso tra una gag e un'altra i momenti salienti della loro carriera artistica, raccontando aneddoti e dettagli divertenti del loro percorso professionale e personale. Alla fine della lunga intervista, la madrina, Maria Grazia Cucinotta, ha consegnato ad Alessandro Haber, che ha festeggiato i 50 anni di carriera con oltre 80 film, il premio Troisi, riconoscimento che lo scorso anno è stato assegnato anche a Greggio. Ma il divertimento e la comicità hanno davvero contrassegnato quest'edizione grazie anche alla partecipazione dell'attrice Francesca Reggiani, anche lei vincitrice del premio Troisi, e dell'esilarante imitatrice Gabriella Germani, che ha deliziato i presenti con delle divertenti imitazioni di Sabrina Ferilli, Mara Venier, Monica Bellucci, e delle donne impegnate in politica come Maria Elena Boschi, Daniela Santanchè e Virginia Raggi. Tanti bambini invece hanno partecipato alla serata, che ha visto protagonista lo scrittore Luigi Dalcin, autore di oltre 100 libri per ragazzi, vincitore di numerosi riconoscimenti, tra cui il prestigioso premio Andersen 2013, che si è giudicato il premio Troisi per la categoria Letteratura, insieme a Catena Fiorello, che ha raccontato a cuore aperto la propria vita personale e professionale attraverso la lettura di alcuni brani dei romanzi Picciridda, Casca il mondo, Casca la terra, Un padre e un padre, amore a due passi. È una piazza gremitissima, poi ha accolto il due Claudio Casisa e Annandrea Vitrano, in arte I soldi spicci, che contano oltre un milione di followers sui social, e dopo i divertenti sketch hanno parlato del loro primo film in uscita a settembre, realizzato in collaborazione con Alessandro Siani. Anche allora è stato consegnato il premio Troisi, riconoscimento che è andato anche all'attore Renato Raimo, che ha reso un omaggio alla nascita della Vespa. Ma nel corso della Kermesse non sono mancati nemmeno i momenti dedicati all'impegno civico e sociale, con la presentazione di un corto sul bullismo dal titolo Il compleanno di Alice, firmato dalla madrina del festival, Maria Grazia Cucinotta, e prodotto da Giulio Violati, e l'ultimo film di Simona Izzo, Lasciami per sempre. Uno spazio speciale è stato poi dedicato al ricordo dell'anniversario delle stragi, in cui persero la vita Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, con la proiezione del documentario La tela strappata, realizzato dal giornalista della RAI Giancarlo Licata, scomparso anni fa, con la collaborazione del Centro Sperimentale di Cinematografia di Palermo e di Rai Teche, che racconta quei 57 giorni vissuti da Paolo Borsellino, che separano la strage di Punta Raisi da quella di Via D'Amelio. Ma questa edizione si è caratterizzata soprattutto per le presenze femminili. A ricevere il prestigioso riconoscimento del premio Troisi, sono state infatti altre due attrici molto apprezzate dal pubblico, ovvero Sabrina Impacciatore e Barbara Bobulova. Il festival si è concluso con la presentazione del nuovo logo Mare Festival Salina Premio Troisi, che richiama l'immagine dell'attore del postino in sella alla sua immancabile bicicletta.